Adesso vediamo quella che è la terminologia specifica di base del settore odontoiatrico, cioè quei termini che non si possono non conoscere. Sono termini che vengono ripetuti spesso e volentieri dall'odontoiatra e che quindi è giocoforza imparare. La terminologia di base nasce dal dente ovviamente, come viene visto dall'odontoiatra. L'odontoiatra quando guarda il paziente ha un suo schema di divisione, cioè per l'odontoiatra il suo lato destro è per modo di dire il lato destro del paziente. È tutto rovesciato in un certo senso. Se voi vedete questo schema che c'è qua, vedete arcata superiore, arcata inferiore, destra, sinistra. Non è un caso il fatto che la destra sia scritta a sinistra e la parola sinistra sia scritta a destra, perché l'odontoiatra è il parametro di riferimento della visione del paziente. Il dente deve essere visto da lui, non da noi, noi come pazienti. È lui che lo vede. E quindi c'è tutto un discorso di numerazione dei denti secondo un ordine preciso. E l'ordine preciso è di dividere i denti in un'arcata superiore e in un'arcata inferiore, la mascella e la mandibola, di numerare i denti secondo una numerazione convenzionale, per cui il dente 1 è l'incisivo centrale, che può essere superiore o inferiore, il dente 2 l'incisivo laterale, il dente 3 il canino, il dente 4 il primo premolare, il dente 5 il secondo premolare, il dente 6 il primo molare, il dente 7 il secondo molare, il dente 8 il terzo molare, chiamato anche dente del giudizio. Ora, questa numerazione è una numerazione internazionale, per cui quando si deve parlare di un dente si possono usare o le parole complete, per cui si dice il primo incisivo superiore di destra, il secondo premolare inferiore di sinistra, si possono usare questi termini, ma sono termini forvianti, nel senso che sono tante parole, è difficile ricordarle, per cui è meglio ricorrere a dei numeri. Allora, si è pensato, già numerando i denti in 1, 2, 3, fino a 8, è già una bella, diciamo, suddivisione. L'ulteriore suddivisione è questa, di dividere le arcate in semiarcate, cioè l'arcata superiore viene divisa in due, un lato destro e un lato sinistro. Notate che io sto andando a sinistra di qua e a destra di qua, però è come vede l'odontoiatra il paziente e di numerare queste arcate secondo una logica, che ora vedremo con attenzione. Tutto nasce dalla linea mediana, cioè la cosa, diciamo, anatomica più importante del corpo umano è questa simmetria. La linea mediana è quella linea che congiunge la fronte al mento, passando per il naso, e divide idealmente il corpo, il viso, in due parti verticali. Ora, a sua volta, il viso è suddiviso in tre fasce, la fascia frontale, la fascia centrale e la fascia, diciamo, mentoniera. Queste divisioni sono molto importanti e diventeranno ancora più importanti quando parleremo a suo tempo della possibilità di una previsualizzazione dei lavori che si fanno sul paziente, ricostruendo un'armonia che magari un paziente ha perso nel corso del tempo e facendo riferimento proprio a queste proporzioni, che sono proporzioni, diciamo per così dire, fisse, per cui la distanza interpupillare dovrebbe corrispondere all'ampiezza delle labbra, secondo i nostri canoni, oppure ancora che, partendo da questa linea mediana, possiamo dividere la bocca in quadranti, come già accennavo prima. La linea mediana è sempre questa e i quadranti nascono dall'intersezione tra la linea mediana e le due arcate. Da questa intersezione nascono le cosiddette emiarcate, cioè praticamente il quadrante superiore di destra, il quadrante superiore di sinistra, il quadrante inferiore di sinistra e il quadrante inferiore di destra. Si costruisce una lettura, diciamo, dei quadranti della bocca secondo un procedere nel senso delle lancette dell'orologio, quindi da sinistra in alto pian pianino si ritorna, si chiude il cerco a sinistra in basso. E quindi si originano queste quattro emiarcate, i numeri li abbiamo visti prima, e ora la cosa interessante è che ciascuna emiarcata è contraddistinta da un numero, cioè la prima arcata superiore di destra è il numero uno, destra paziente ovviamente, la seconda arcata, la due, è l'arcata superiore di sinistra paziente, la tre è la terza emiarcata inferiore di sinistra, sempre paziente, per l'odontoiatra questo è destra e via l'ultima arcata è contraddistinta dal numero 4. Ora, usando questi numeri come prefisso per i denti che abbiamo indicato prima, quindi l'incisivo centrale, l'incisivo laterale, il canino, quindi il dente 1, il dente 2, il dente 3, si ottengono dei numeri che sono delle decine, delle ventine, delle trentine, delle quarantine, e cioè il dente 13, in questo caso, è il canino superiore di destra paziente. Il dente, non so, 46 è il primo premolare inferiore, sempre destra paziente, ok? Cioè, in pratica, la numerazione procede dall'arcata superiore di sinistra, lato dontoiatra, ecco, oppure lato paziente destra e in senso orario si chiude il cerchio, come potete vedere lì. La vista dell'odontoiatra è chiaramente rovesciata rispetto al paziente, però questo è importante conoscerlo in anteprima perché potrebbe, diciamo, causare delle incomprensioni tra... ma l'odontoiatra utilizzando questi numeri non ha nessun problema, perché i numeri sono numeri e non possono essere, diciamo, interpretati diversamente. Quindi la divisione in quadranti è una cosa molto importante. Ora, ritorniamo alla linea mediana, che è la linea di base da cui veramente partono tutte le suddivisioni del dente. Guardate qua, la linea mediana, abbiamo detto, divide le arcate in due settori, un settore di destra e un settore di sinistra. E a questo punto dobbiamo imparare a conoscere i termini che si usano per definire le superfici dei denti. Se questa è la linea mediana, ideale, tutte le superfici dei denti che guardano verso la linea mediana si chiamano mesiali, cioè la superficie di questo dente da questo lato è una superficie mesiale. La superficie di questo dente che guarda verso il centro della bocca si chiama mesiale, verso il mezzo, ok? Tutto ciò che invece viene visto da un'altra prospettiva, cioè la superficie di un dente che si allontana da questa linea mesiale, da questa linea mediana, diciamo, e si chiama distale. Quindi già questi due termini sono da imparare a memoria, linea mediana, superficie mesiale e superficie distale. Sono già tre termini molto importanti. Qui vediamo che ci sono altri termini scritti qua che sono buccale o labiale, a seconda che siano le superfici verso le labbra o verso le guance. Questi sono dei concetti che bisogna imparare, comunque verranno senz'altro ripresi. Ora, andiamo avanti. Come, diciamo, riassunto, la superficie mesiale è la parte del dente più vicina alla linea mediana, la superficie distale è la parte del dente più lontana dalla linea mediana, ok? Questo è detto. Ora, vediamo di vedere le cose ancora più in profondità, perché mesiale e distale ci dicono solo quali sono le superfici più o meno lontane dalla linea mediana. Ora bisogna imparare dei termini che sono dei termini veramente di uso comune, e cioè il termine vestibolare o buccale per la parte del dente che guarda verso le labbra o le guance. Allora, vestibulum in latino era l'atrio della casa, cioè dove si entrava in casa, e il vestibulum, la parte vestibolare della bocca è la superficie che si vede, la superficie esterna dei denti che si vedono. E quindi tutto ciò che è a vista è il vestibolo dei denti. Viene chiamato anche buccale se si riferisce alla bucca in senso latino, cioè la guancia, la superficie. Alla fine vestibolare però prende dentro tutto quanto, no? Se vogliamo essere proprio molto più schematici, più precisi, sì si dice anche buccale. Comunque vestibolare è la parola che si usa di gran lunga di più, cioè la parte esterna dei denti. Ora i denti hanno un esterno, ma hanno anche un interno. A seconda, se questo interno è l'interno dei denti dell'arcata inferiore, allora tutto quello che c'è qui dentro da queste parti si chiama superficie linguale, perché dà verso la lingua. Invece tutto ciò che c'è l'interno dei denti da questa parte si chiama superficie palatale, perché la parte del dente è più vicino al palato. Ecco, quindi alla fine è abbastanza un gioco di combinazioni, conoscere le terminologie corrette che usano i dentisti, no? Perché sono delle parole che poi si ripetono ogni giorno continuamente nella pratica quotidiana. Altri termini che si usano è superficie gengivale, che vuol dire la parte del dente vicina alla gengiva, quindi al colletto del dente, oppure ancora superficie occlusale, cioè dove avviene la masticazione, quindi sui premolari e sui molari, la superficie dove c'è proprio il lavoro di occlusione, di intercuspidazione tra i premolari e i molari dell'arcata superiore e inferiore, superficie masticatoria propriamente detta. Invece per gli incisivi canini, gli spigoli, la superficie di questi denti 1, 2, 3, di tutte le arcate, si chiama superficie incisale. superficie incisale non mastica, ma ha la presa, fa la presa del cibo, ha questa funzione. Questo è lo schema grafico, per cui un dente visto da più prospettive ha una prospettiva mesiale, distale, palatale, vestibolare, qui c'è scritto boccale, ma è la stessa identica cosa, e così di seguito. Per i denti invece centrali si parla di superficie incisale. Ora, se ci pensiamo bene, tutti questi termini col tempo si possono combinare tra di loro, cioè non è che uno parla solo di superficie linguale o superficie distale o superficie mesiale. Ci possono essere degli interessamenti, delle patologie, delle carie che interessano più zone del dente, e allora si deve usare una combinazione di questi termini che abbiamo sentito proprio ora. E cioè, se io devo trattare una carie che ha un'estensione dal centro del molare verso la sua periferia destale, allora si parlerà di superficie disto-occlusale. Se io devo trattare una patologia per cui, oppure devo prendere in esame una zona del dente che è da questa parte, diciamo, si dice che tratterò la superficie vestibolare, oppure ancora faccio una combinazione di occluso-vestibolare, vestibolo-occlusale, disto-linguale, a seconda di come l'odontoiatra interpreta o deve o vede la parte del dente che gli interessa. Quindi, il fatto che ci siano qui delle parole composte, linguo-occlusale, disto-clusale, disto-linguale, mesi-linguale, sono le visioni trascritte, diciamo, con le parole tecniche dell'odontoiatra. Ok? Quindi queste sono un gioco di combinazioni che con il tempo diventano sempre molto semplici. Un altro modulo, un'altra terminologia interessante, una terminologia che a più di cent'anni è stata creata da un tale dottor Green Vardyman Black, un americano, che si era reso conto che le carie tutto sommato si riproponevano in modo molto costante in determinate zone del dente. E quindi lui aveva elaborato una classificazione, che è una classificazione che dura tuttora, i famosi classi di Black, che poi ha avuto un grande successo negli anni del secolo scorso per le ricostruzioni in amalgama. Le classi di Black erano delle classi per cui si ricostruivano le cavità cariose con il materiale amalgama. E allora lui aveva trovato che c'erano sei classi di posizionamento della carie e aveva trovato che c'è una classe 1, 2, 3, 4, 5, 6. La classe 1 è il posizionamento della carie a livello solo clusale, cioè dei premolari e dei molari, il centro proprio del tavolato occlusale, oppure il centro della superficie interna dei canini, cioè la superficie o labiale o palatale dei canini e dei, scusate, degli incisivi, cioè dei denti frontali. La classe 2 è un'estensione della classe 1, cioè una carie oppure un posizionamento tale per cui dall'occlusale si va verso il distale o verso il vestibolare, quindi un'estensione della classe 1. La classe 3 prende in esame solo gli incisivi e i canini ed è una carie prossimale, cioè una carie, ecco, questa è un'altra parola da imparare, vicina al dente contiguo, al dente accanto. La classe 4 è un'estensione della 3, cioè è una carie prossimale di incisivi canini con un interessamento dello spigolo incisale. Vedete, tutte queste parole non le uso a caso, ma le uso con attenzione. La carie, scusate, la classe 5 è un posizionamento della carie a livello del colletto del dente, questa zona si chiama cervicale o gengivale e quindi la cervice o la zona gengivale o cervicale del dente è la classe 5. La classe 6, invece, è una classe un po' a sé stante, sono le cavità di tipo carioso sulle cuspidi dei molari oppure sulla superficie incisale degli incisivi e dei canini. Quindi con queste 6 classi Black aveva trovato una classificazione molto utile che poi è stata accettata dalle accademie internazionali, da tutto il mondo odontoiatrico. Questo però, bisogna dirlo, è stato il primo tentativo di descrivere la posizione ricorrente della carie su determinate superfici dei denti. Poi il progresso ha portato avanti altri tipi di classificazione. Vediamo quali. Allora, con l'avvento di nuovi materiali, diciamo, è più difficile usare le classi di Black. Si preferisce ricorrere a una descrizione come quella che abbiamo visto prima, cioè descrivere le cavità in base alla loro posizione nel dente, utilizzando quel gioco di combinazioni che abbiamo visto prima, e cioè cavità mesio-occlusale, disto-palatale, eccetera, eccetera. Cioè usare i termini proprio delle superfici dei denti. E questo è un motivo per cui è importante conoscere bene la terminologia. Adesso cercheremo di riprenderla in un modo più analitico, per cui dico, le classi di Black sono ancora utilizzate, ma essendo state inventate per le cavità per amalgama, al giorno d'oggi risultano un pochettino obsolete. Bisogna conoscerle comunque perché c'è tutta una serie di operatori che sono abituati ad usarle. Vediamo un po' tutte le possibilità terminologiche. Allora, abbiamo detto prima che mesiale significa vicino al centro dell'arcata dentale. Distale è esattamente l'opposto, lontano dal centro dell'arcata dentale. La linea mediana, abbiamo detto, è la linea più importante del viso e anche del corpo umano, in un certo senso, visto che il corpo umano è simmetrico. Occlusale significa superficie dove avviene la masticazione, l'occlusione, e quindi sono le parti proprio centrali degli premolari e dei molari. Incisale significa la superficie degli incisivi e dei canini, la superficie finale, cioè il bordo tagliente degli incisivi e dei canini. Vestibolare vuol dire tutto ciò che è esterno al dente, vicino alla cavità orale, il vestibulum dei latini che abbiamo detto prima, cioè l'ingresso nella bocca. Linguale è, significa la porzione del dente vicino alla lingua, quindi si parla di arcata inferiore, denti dell'arcata inferiore della mandibola. Palatale, vicino al palato, quindi si parla delle parti interne dei denti dell'arcata superiore o macellari. Prossimale significa porzione del dente vicino ad un dente, ad un altro dente, quindi è, vuol dire vicino a, prossimale. Interradicolare, lo dice la parola stessa, vuol dire tra le radici, labiale vicino alle labbra, buccale vicino alla guancia, orale vicino alla cavità orale, quindi è praticamente tutto ciò che è interno è orale, cervicale invece vicino al colletto del dente o alla cervice, chiamata anche così. Ora, se noi guardiamo questa bellissima immagine, possiamo vedere tutte le superfici dei denti da più angolazioni, cioè gli stessi denti visti da più angolazioni, quindi questa è la visione classica che noi possiamo avere, cioè i denti come li vediamo, i denti di una persona li vediamo così, da questa parte labiale o vestibolare, e quindi noi diremo di questo dente qua, che è un incisivo laterale, che questa è una sua superficie mesiale, questa è una sua superficie distale, che questa è una superficie incisale, che questa è una superficie cervicale, eccetera, eccetera, eccetera. Se noi potessimo entrare dentro la bocca del paziente, vedremmo dall'interno, quindi vedremmo lo stesso incisivo che si ripropone così, quindi sempre con una parte incisale, una parte mesiale distale, scusate, mesiale distale, una parte cervicale, ma abbiamo tutta la parte qui interna, che viene detta o palatale o linguale, a seconda se parliamo dell'arcata superiore o dell'arcata inferiore. Quindi tutte queste parti che vedete qua sono le parti occlusali, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ci sono le radici, questo è un altro discorso. Visione mesiale, come se potessimo entrare in bocca e vedere i denti solo dal lato superinterno, dal lato prossimale, no? Sia dal punto di vista mesiale che dal punto di vista distale, questo è un po' più difficile, però guardando i denti ci rendiamo conto di tante cose, tipo di come è l'anatomia di, non so, degli incisivi, di come è l'anatomia dei molari, l'anatomia dei premolari e dei molari. Qui abbiamo il molare fino al dente 7, non abbiamo il dente del giudizio in tutti questi casi qua, non è stato riportato. Va bene, perché non è detto che tutti abbiano il dente del giudizio, che è una cosa che si sta anche perdendo nella razza umana. Dunque, vediamo un po' altre angolazioni da cui vedere i denti. Sono le angolazioni dall'alto, che sui denti frontali si chiama vista incisale, e sui denti invece posteriori, cioè sui denti premolari e molari, si chiama vista occlusale. E qui possiamo vedere tutti i, come si dice, tutte le varie fosse, tutte le varie fessure, tutte le varie cuspidi, che si devono tra di loro intercuspidare, cioè i denti superiori e inferiori devono entrare per la masticazione in intercuspidazione, cioè per poter macinare i molari. Il termine molare è latino e significa mola, quindi la mola, lo sapete, è praticamente una, ha la funzione di macinare i materiali. Quindi, già vedendo tutta questa grande presentazione di forme di denti, si capisce da subito che una lavorazione veramente anatomica di questi denti, richiede varie forme di strumenti rotanti. Non solo varie forme, ma una stessa forma in vari diametri, se no non si capirebbe come mai l'offerta di frese, di strumenti rotanti, è così ampia. Perché lavorare su un canino superiore, su un canino superiore o su un incisivo superiore, è diverso che lavorare su un incisivo inferiore, su un canino inferiore. È logico, no? Quindi ci sono proprio forme diverse, ampiezze diverse. E quindi la piezza di gamma delle forme è una logica conseguenza della vastissima gamma delle autonomie, delle anatomie. Ora, vediamo, questo è un caso solo per spiegare, perché tutte queste superfici dentali, queste superfici occlusali, queste superfici incisali, questi solchi che vedete qua, possono essere, diciamo, affrontati con vari strumenti e uno potrebbe pensare che c'è uno strumento unico per poter lavorare lo stesso dente in questa fessura, invece di strumenti ce ne sono diversi. A seconda delle abitudini operative dell'operatore, si preferisce usare una classica fiammetta o addirittura una forma che rispetta, che è concava per rispettare la convessità di questi versanti. Oppure, guardate questa fresa, come quasi sia il perfetto abbinamento con la superficie linguale o palatale di questo dente, come è veramente pensata anatomicamente per quella porzione di dente. Comeppure, guardate qua, tra questi due strumenti diamantati che devono lavorare questa porzione di dente, che si chiama tavolato occlusale, come questa sia a forme ammorbidite, arrotondate, questa invece sia a forme tutte spigolose. Inutile dire che questa forma è più moderna di questa, però qui ci sono altri discorsi da fare.